Ciao a tutti, seconda video-lezione sulla istituzione oratoria di Quintiliano. Dicevamo nell'altra volta che il primo argomento, il primo grande tema di questa importante opera è l'educazione. Qui ti rimando alla video-lezione che abbiamo dedicato appunto per approfondire questo tema. Il secondo grande tema invece è l'oratoria e la sua crisi attuale. Parliamo ovviamente della fine del primo secolo d.C. Ti ricorderai che la retorica accompagnava ogni uomo politico nel suo cursus honorum, cioè nella sua carriera politica. E questo qua è importante, ti rimando alle video-lezioni sul Cicerone che dedica buona parte della sua produzione, immensa produzione, proprio alla storia della retorica, alle varie parti dell'oratore, eccetera, eccetera. Un argomento che Quintiliano tangenzialmente tocca. Ci fermiamo oggi più che altro sulla crisi. Perché è in crisi oggi? Perché è in una profonda decadenza? Quali sono i motivi? Allora io ti rimando due categorie di motivi, due macro-categorie. Partiamo da quella che è da Quintiliano, appunto. Quintiliano individua a cause che sono di due ordini. Un ordine prima tecnico, cioè c'è una carenza di buoni insegnanti. Per cui chi la insegna? Se l'insegnante stesso non la conosce, le varie parti, ti ripeto, non vorrei entrare troppo nel dettaglio, tra le varie, quello che oggi si chiama il public speaking, no? Che va tanto di moda ed è una capacità che sicuramente ti consiglio di acquisire. Ecco, se non c'è nessuno che lo insegna, come faccio a impararlo? Anche, ci dice, c'è un eccessivo spazio destinato alle declamazioni su argomenti fittizi, no? Le declamazioni, appunto, a quell'epoca. Troverai un approfondimento sui vari tuoi libri di testo. Declamazioni però su argomenti che sono totalmente marginali, fittizi, fasulli alla fin fine e non legati a cui stimola nemmeno poco interesse e quindi poca preparazione. Un'altra ordine è un ordine morale. Cioè la generale degenerazione dei costumi ha portato con sé uno scadimento generale del gusto e dello stile. Quindi non si apprezza neanche più una persona che sa parlare bene. Quindi, alla fin fine, è ovvio che oggi l'oratorio viva una profonda decadenza. Queste sono le opinioni che Quintiliano riporta nella sua opera. Cioè si evincono, ovviamente, in filigrana attraverso la lettura della sua opera. Ti dico però che ce n'è un'altra di risposta che, secondo me, è un po' più profonda. Non è che è migliore o peggiore. È semplicemente che è un altro tipo, un altro ordine tacito. E ti rimando al Dialogus de Oratoribus, che è una delle opere cosiddette minore di Tacito, beh, affronta il problema e dà un altro tipo di risposta. Ovviamente non è un retore, quindi non si firma troppo sugli aspetti di ordine tecnico e morale. Parla invece di aspetti politici. Ti ricorderai, ti rimando alla videoazione dedicata a quest'opera, ti rimanderei che avevamo già messo in rilievo che Tacito, che scrive intorno al centro, quindi qua un decennio dopo, più o meno, rispetto all'istituzionatoria, affermerà che appunto è la presenza del Princeps e l'istituzione del Principato ad aver causato la decadenza dell'oratore stessa. Perché è evidente che l'oratore si manifesta nella sua massima attività proprio nella politica, quando si tratta di dover convincere il Senato della licevità di una certa legge, dell'importanza di una certa guerra, della necessità di un certo trattato commerciale, quando bisogna arringare il popolo e quindi orientarlo verso alcune decisioni importanti. E' lì che l'oratore conosce la sua massima manifestazione nella dice Tacito. Oggi, in cui tutto è deciso dal Princeps, vabbè, alla fin fine. Saper parlare dei rostra, cioè saper parlare nel foro, o saper parlare al popolo, o saper parlare nella curia al Senato, vabbè, sai parlare bene o sai parlare male, alla fin fine, non è che proprio sia così importante. Oggi c'è il Princeps che decide tutto, se parli bene è uguale, se parli male è lo stesso, quindi è ormai decaduta l'oratore. Quindi sono motivazioni di varie ordini, ripeto, non ce n'è una migliore e una peggiore, mi convince un po' di più personalmente questa di Tacito, cioè l'oratore oggi non serve più niente. Ti ricorderai che anche la conclusione a cui ho raggiunto Tacito, dice, vabbè, ma se il prezzo da pagare per avere una pace, duratura, una situazione economica stabile, una situazione politica stabile, il Principato porta con sé, almeno per la maggior parte dei casi, dei periodi lunghi di stabilità sotto tutti i punti di vista, se il prezzo da pagare per tutto questo è la morte dell'oratoria, vabbè, tutto sommato, non è un grande prezzo da pagare, che muoia pure l'oratoria. Questa è la risposta finale, sto banalizzando un pochettino, capisci da solo, però perché ti rimanga impresso, la risposta di Tacito è questa. Vediamo come affronta il problema, il problema invece quintiliano. Vuole fornire un manuale, appunto, l'istituzione oratoria per formare l'ottimo cittadino, ti ricorderai, diciamo, nell'altra videoazione, che è Vespasiano, che gli affida l'incarico di formare i nuovi burocrati, nuovi cittadini, non soltanto cittadini semplici, ma gli alti funzionari che devono portare avanti lo Stato, che devono essere, ovviamente, devono essere formati dal punto di vista tecnico, tecnico nel senso che devono avere nozioni legate alla politica, allo Stato, alla legge, all'economia, eccetera, eccetera, ma devono essere essenzialmente dei perfetti oratori. Ci dice la definizione perfettos et bonus, quindi formato in maniera completa, ma deve essere anche bonus. Attenzione perché qua si, appunto, si aggiunge una dimensione che in un manuale tecnico, ecco, forse non ci aspettiamo, una dimensione etica. Nel dodicesimo libro accenna ai rapporti fra l'oratore e il princeps, e dicono alcuni studiosi che in qualche modo sembra un po' deglassare il primo a semplice portavoce del secondo, un burocrate della parola. In realtà, forse studiando un po' meglio, qua riporto l'opinione di Gianbiaggio Conte nel suo libro, ottimo manuale per le scuole medie superiori, ci dice che in realtà forse seguintiliano è arrivato alle medesime conclusioni di Tacito. Quali sono le medesime conclusioni di Tacito? Cioè che il principato ormai non è più messo in discussione. Non si può restare nel 100 dopo Cristo ancora dei laudatores temporis acti, cioè dei nostalgici. Ecco, non ha più senso. La Repubblica ormai è morta, è defunta, è sepolta. Il principato è ormai istituito, che Spasiano stesso aveva creato una legge che parlava in maniera chiara e definiva in qualche modo un po' meglio quelli che sono i ruoli del Princeps, quindi è inutile pensare di ritornare, cancellare questa istituzione. Ma allora veramente è soltanto un portavoce l'oratore di quello che vuole l'imperatore? No. Ecco, Quintiliano vuole in qualche modo ritrovare, proprio forse puntando a questo, a creare un perfetto oratore, un perfetto oratore perfetto dal punto di vista tecnico e dal punto di vista etico, vuole in qualche modo ritrovare lo spazio per una degna missione civile dell'oratore, che c'è ancora, secondo lui. Per questo ti dico attento, perché il percorso formativo che noi troviamo nell'istituzione oratoria, beh, ha un fine che è essenzialmente etico. La Virtus è al primo posto, non la conoscenza. E questo qua, sai il suo perché? Penso alla sua attualità anche oggi a scuola. No? Noi magari siamo bravi, magari possiamo bravi, a creare degli ottimi studenti, quanto siamo bravi a creare degli ottimi uomini, ottimi esseri umani. Se lo poniamo mai noi docenti come problema questo? Oppure, per me, l'importante è che sa quando è nato, quando è morto, quantiliano, e per me va bene, e basta, e avanza. Ogni tanto ci conviene anche a noi riflettere su questo. Illustra quelle che sono le caratteristiche del perfetto oratore in un brano, no? Che ci dice lui stesso non sarà un semplice lavoratore del forno, uno che dà un'opera forense, cioè un semplice avvocato. Come neanche sarà un parlatore prezzolato, no? Avere una mercenariem vocem, una voce appunto pagata. Un brano molto interessante, sempre tratto dal dodicesimo libro, ci dice quanta sarà la sua parte o nel difendere gli innocenti, o nel reprimere le malefatte dei disonesti, o nel soccorrere la verità contro le calunnie dei processi pecuniari? Cioè, il eretore essenzialmente è un avvocato. E va bene. Scusiamo l'oratore, ha la sua attività principale proprio nelle cause forense. Su questo non c'è dubbio. Saper parlare bene in tribunale ha la sua valenza. Egli sarà certamente ottimo avvocato di cause di tal genere, ma... Ecco, qua ci interessa. Ma la sua bravura risplenderà maggiormente in altre più impegnative. Quando cioè occorrerà, ecco qui, regolare le decisioni del senato e correggere gli errori del popolo richiamandolo sulla retta via. Cioè, le doti eccellenti che Quintiliano vuole, eccellenti per l'oratore, saranno utilizzate al meglio proprio al servizio dello Stato. È quello che ci dice Quintiliano, ma è quello che poi voleva Vespasiano, l'imperatore. Quindi, sapere orientare le decisioni del senato, quindi gli altri senatori riuniti nella cura devono in qualche modo ricevere un stimolo forte da un oratore capace, bravo, che non farà il semplice avvocato, ma farà un politico bravo, capace di appunto convincere, convincere il senatore, come anche richiamare sulla retta via, occhio a questo termine, perché ci richiama sempre la dimensione etica che ha l'oratore, richiamare sulla retta via il popolo, che spesso va corretto nei suoi errori, ci dice in questo brano, molto interessante. E allora torna il vecchio adagio di Catone, Catone il censore, poi di Cicerone, il verbonus dicendi peritus, che un uomo buono, un uomo onesto, è capace di parlare. C'è una perfetta corrispondenza fra la virtù e la capacità retorica, appunto, capacità oratoria. Concediamo pure, cosa che la natura non tollera, che si è stato trovato un uomo malvagio estremamente eloquente. Cionostante, io affermerò che egli non è un oratore. Il possesso della cultura è incompatibile per natura con la disonestà morale. E qualche riflessione pure a noi ci viene sui tempi nostri o guardando i nostri politici, no? Che, devo dire, sanno quasi tutti parlare molto bene, ma, qua non c'è nessuna polemica specifica nei confronti di nessun partito, ma sono tutti onesti? Quindi, no? Oggi, come oggi, questo detto antico, questo antico adagio, verbonus dicendi peritus, a mia parola, lascia un po' il fianco a molte critiche. Qua Quintiniano è sicuro, comunque, no? Quindi il possesso della cultura è incompatibile con la disonestà morale. Se a chi è chiamato a difendere delle cause non è necessaria quella lealtà che né in gordigia riesca a corrompere, né influenza dell'esterno distorca, né paura vinca, darò io il nome sacro di oratore a uno che tradisce, che diserta, che prevarica? Ovviamente no. Non posso chiamare l'oratore uno che agisce in questo modo. Abbiamo bisogno quindi di avvocati onesti come anche di oratori onesti. Perché se anche gli avvocati mediocri agli avvocati mediocri si addice a quella che economemente si chiama onestà, per quale motivo quell'oratore che non è mai esistito ma che potrebbe un giorno venire fuori e non dovrebbe essere perfetto sia moralmente che statisticamente? Ecco qui c'è un aspetto molto interessante quantità cioè propone un ideale di oratore che è capace di una perfetta onestà quindi una integrità morale perfetta e di una perfetta competenza culturale o se vuoi semplicemente tecnica nel saper parlare bene. Ancora ci dice oggi ancora oggi 100 dopo Cristo è necessario un uomo che abbia tutte queste virtù che sono ripeto morali ma che sono anche tecniche però un po' è una riflessione che ci viene a noi da fare ma esiste sul serio un uomo così può esistere un uomo quindi sì nella teoria è vero che Quintiliano ci dica ci suggerisca queste caratteristiche ma poi nella realtà trovarlo un uomo così è estremamente complicato quindi sembra un po' effettivamente andare a finire in un ideale un po' utopistico Quintiliano cercando di rievocare forse personaggi del passato che lui ammira molto adesso ci arriviamo come per esempio Cicerone forse ecco ci delinea un oratore la figura dell'oratore come una figura veramente troppo idealizzata e quindi troppo lontana dalla realtà chiudiamo sullo stile è la reazione classicistica questa dell'istituzione oratore perché poi all'interno del testo si lavora nel decimo libro lui fa un elenco di letture importanti di autori di riferimento modelli di stile e primo fra tutti ovviamente Cicerone come anche chiaro il suo disprezzo mi confronto dello stile di Seneca per cui si scontrano la concinnitas con l'inconcinnitas e tutte quali caratteristiche che ovviamente già conoscerai interessante notare però come il suo di Quintiliano stile è lontano da quello ciceroniano inevitabilmente risente invece di quello senecano per cui dice una cosa poi ne scrive ne scrive un'altra un'ultimo aspetto riesce a rifuggire da ogni eccesso ricerca costantemente la chiarezza la perspicuitas che è pertanto è peraltro d'obbligo in un trattato che vuole insegnare nozioni tecniche in un trattato scritto da un maestro che è un docente che vuole inevitabilmente essere chiaro in primo luogo quindi queste sono caratteristiche più stilistiche che chiudono un po' il discorso che ha dall'istituzionatorio che a mio parere resta un libro che riesce a lasciarci degli stimoli interessanti per la riflessione sul nostro lavoro e sulla nostra quotidianità scolastica che viviamo alla prossima